Ciao ragazzi Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e in questo breve video voglio farvi vedere come poter probabilmente, e sottolineo probabilmente, migliorare le performance del vostro assetto corsa competizione, quindi andare a guadagnare qualche frame per secondo in più e sempre probabilmente guadagnare in nitidezza, chiarezza e performance per chi ha la fortuna di avere un casco di realtà virtuale e nello specifico gli Oculus Rift. Prima di continuare voglio fare un particolare ringraziamento a quegli amici che mi hanno suggerito, anzi a uno in particolare che mi ha suggerito questo file, non vuole essere nominato quindi lo ringrazio, sa benissimo di chi sto parlando, per avermi appunto suggerito questo file e avermi dato modo di poter fare questo video qua. Una doverosa premessa ragazzi è che prima di fare qualsiasi tipo di modifica vi consiglio assolutamente di fare un backup dell'unico file che andremo a modificare e che non mi ritengo assolutamente responsabile di danno o qualsiasi cosa per quanto riguarda il vostro computer o il gioco assetto corsa competizione. Quindi se fate questa modifica lo fate a vostro rischio e pericolo che sia chiaro, quindi fatta questa dovuta premessa se volete provare a fare questa modifica bisogna innanzitutto andare a scaricare il file che vi ho lasciato il link in descrizione. Attenzione però, non possiamo garantire un miglioramento per forza di performance perché per quanto mi riguarda io ho ottenuto soltanto un miglioramento in termini di visione grafica, diciamo, di quello che è un po' il dettaglio. Per quanto riguarda le performance, per quanto riguarda la mia configurazione hardware non ho notato questo tipo di miglioramento, sia per quanto riguarda la realtà virtuale sia per quanto riguarda giocare a schermo singolo. Però, quello che ho notato è che si vede meglio, a livello di colore e dettagli si vede meglio. Quindi io sono quello che è stato, sono stato diciamo più sfortunato rispetto a chi ha avuto invece veramente un incremento quasi del 20% di performance sia a schermo sia con il casco di realtà virtuale Oculus. Quindi, ve lo ripeto, dipende dalla vostra configurazione. Tutto qua. Quindi ragazzi, tentare non costa niente, se fate le dovute, diciamo, i dovuti backup c'è la possibilità anche che sia appunto reversibile e senza problemi. Quindi non è nulla di complicato, però ricordatevi, non mi ritengo assolutamente responsabile se succedono casini sul vostro PC. Allora, prima operazione da fare, scaricate il file dal link in descrizione, poi andate su risorse del sistema, C, o il vostro disco principale, utente, il vostro nome utente, e qui dovreste ritrovarvi questa benedetta cartella che si chiama appdata. Se non la vedete dovete andare sulle opzioni della cartella, andate su visualizzazione, cercate, visualizza cartelle e file nascoste. Ora, qui io ce l'ho in francese, ma insomma in italiano lo trovate. E a questo punto, quando confermate, dovreste ritrovarvi questo tipo di cartella, appdata. Ci cliccate due volte, quindi su local, quindi su ac2, che vuol dire assetto corsa 2, quindi saved, perché ce n'è una sola, e quindi config. A questo punto scegliamo windows no editor. E vi ritrovate con questi file qua. Il file in questione da sostituire è l'engine.ini, che si trova qui dentro, e che, diciamo, vedete che è piccolino, cioè c'è poca roba dentro. Quindi cosa facciamo? Clicchiamo una volta oppure, semplicemente lo selezioniamo, facciamo F2, prima dell'estensione punto.ini mettiamo hold, d'accordo? E il file che abbiamo scaricato, io ce l'ho qui, eccolo qua, engine mode, ma lo rinominiamo, io ve lo metterò con il nome originale. Eccolo qua. Questo qua, semplicemente, lo andiamo a mettere qui dentro. Taglia e incolla. E guardate che cosa c'è in più. In pratica qui viene a modificare un po' quello che è l'engine. Adesso, basta chiudere e avviare assetto corsa. Io, il confronto sul mio PC personale, sono onesto con voi, non l'ho messo, non l'ho fatto, perché non c'è questa differenza. Però questo amico mio mi ha inviato un video dove si vedono le sue impostazioni che sono in 4K Ultra, e vedrete la differenza tra attivo e non attivo. Ovvio, non ha potuto registrare quello che vede su Oculus Rift, ma me lo garantisce sia lui che altre 2-3 persone che lo utilizzano. Quindi, provare non costa nulla. E così vedrete le differenze con questo file modificato o meno, tenendo conto, ragazzi, che ci sono almeno 10-15 frame per secondo che sono persi durante la registrazione. E tenete conto che durante la registrazione, ovviamente, c'è la compressione del video che viene fatto. Quindi, ragazzi, spero che questa chicca vi sia piaciuta. Attenzione, fate sempre il backup come ho fatto io. Se non dovesse funzionare, basta eliminare il file che avete scaricato dal link in descrizione e andare a rinominare il vostro file. Non è nulla di complicato. E poi, se non funziona, ragazzi, basta andare su Steam e andare a fare il controllo dell'integrità dei file e lui ristalla tutto. Quindi non è tutto questo pericolo, diciamo, per quanto riguarda il setto forza competizione. Quindi, ne ringrazio nuovamente questo mio amico che non vuole essere nominato di avermi segnalato questa chicca. Se il video vi è piaciuto, non esitate a lasciare un like, lasciatemi un commento, fatemi sapere se avete ottenuto performance o meno. E magari anche con la vostra configurazione hardware per vedere quali sono le componentistiche che, diciamo, gradiscono questo tipo di modifica. Non esitate ad iscrivervi al canale, tanto è gratuito. Noi ci vediamo prestissimo da Fabris e tutto. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti.